Il Consiglio della Memoria. Anche quest'anno l'Assemblea regionale ha celebrato il ricordo del dramma della Shoah, con un riconoscimento speciale e tante prese di posizione nette perché quelle tragedie non avvengano mai più. Vaccini le speranze dell'assessore Bezzini, che punta ad accelerare il più possibile le procedure per chi ha più di 80 anni, almeno per quelle persone. Lui fa il punto in aula ma deve affidarsi, per forza, rispetto delle forniture da parte delle case farmaceutiche e il Consiglio unanime. Ritiene possibile anche un'azione legale contro Pfizer-BioNTech. Intanto si danno aiuti alle categorie escluse, almeno in parte, dai ristori del Governo, dando corso così a quanto era stato annunciato al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e quindi sostegno alle proloco, ai lavoratori autonomi dello spettacolo, ai maestri di sci. È cominciata e tornerà sabato 6 febbraio alle 9.30 del mattino. La nuova trasmissione Il Mio Consiglio, il presidente Antonio Mazzeo, ogni volta risponderà a tutte le domande da casa, che potrete mandare via email, whatsapp e anche telefonando in diretta. Simone Bezzini, assessore alla sanità, interviene all'inizio del Consiglio regionale e spiega subito che il suo assillo è intensificare le vaccinazioni, aprirle il prima possibile ai più anziani, agli over 80. Se tutto andasse bene, potremmo pensare di cominciare già a metà febbraio, ma le speranze oggettivamente appaiono poche, troppi ritardi nelle forniture, in particolare per ora da Pfizer-BioNTech, tanto che il Consiglio, se esprime all'unanimità, decide di valutare la possibilità di azioni legali. L'impegno che noi oggi abbiamo preso come Consiglio regionale è quello di essere attenti al tema, di spingere il governo affinché parta questa azione legale, per fare in modo, non perché vogliamo metterci contro chi produce, ha fatto uno sforzo enorme per trovare il vaccino, ma perché vogliamo dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, garantirgli il diritto alla salute. Sull'argomento intervengono un po' tutti i gruppi, anche su altri aspetti di questa inedita massiccia campagna di vaccinazione, anche perché sono gli stessi consiglieri dei gruppi a porre l'accento su alcune problematiche, i vaccini agli disabili, quelli appunto agli anziani, ad altre categorie come gli insegnanti. C'è anche una novità nell'utilizzo dell'app Immuni, si potrà segnalare in Toscana, in autonomia, la propria eventuale positività. Ecco comunque una carrellata di opinioni, partendo dai capigruppo della maggioranza. Il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave, che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani, ovviamente, vale a dire la salute. Quindi l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnato a fare ed eventualmente abbia quelle penalità se sono previste e possibili da applicare che si merita. Serve essere tempestivi, essere puntuali, rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari, in primis quello degli insegnanti, che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario. A porre l'accento sulla necessità di procedere al più presto alle vaccinazioni dei disabili è stato in particolare il portavoce dell'opposizione. Sì, abbiamo riproposto un question time su una evidente necessità da parte di coloro che sono i più deboli, da parte dei disabili e coloro anche che se ne prendono cura, di entrare nella fase 1 della vaccinazione. Purtroppo c'è stato risposto che nulla è cambiato e che quindi queste persone dovranno attendere, se va bene, la fine di marzo. Le altre opposizioni, quella del Movimento 5 Stelle e quella degli altri gruppi di centro-destra, con le parole dei capi gruppo, partiamo da Galletti che fa anche un'ulteriore proposta. Utilizzare l'articolo 31 di un trattato ortennazionale, l'acronimo si chiama TRIPS, che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria, cioè la possibilità di produrre vaccini ma anche farmaci in casi di emergenze eccezionali da parte di aziende che non sono quelle produttrici, in questo caso l'Advisor. E questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emergenza in cui ci ha gettato anche, non soltanto la pandemia, ma anche delle aziende, delle multinazionali, che lo devo ricordare, soprattutto a tutti quelli che elogiano la sanità, il privato nella sanità. Loro devono fare interessi di mercato. E ora la parola a Fratelli d'Italia e Forza Italia. Abbiamo portato anche il nostro contributo, volendo sottolineare come in Europa ci siano altri Stati, non l'Italia, che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione. Quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che aspettavano dagli accordi iniziali e ci sono paesi come l'Italia e nella fattispecie la Toscana che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci. Quindi la situazione è difficile. Io spero che la Regione Toscana, ma non solo, l'Italia tutta, si costituisca in questa azione legale contro Pfizer e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile. Sono stati i primi a denunciare e a chiedere che la Regione si costituisse parte civile perché quello che è successo è inaccettabile. Abbiamo fatto, cioè l'Italia, il nostro paese, il paese membro del G8, uno dei primi paesi contribuenti dell'Unione Europea, hanno sottoscritto il nostro governo dei protocolli. La cosa che più mi indigna è che né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né il Ministro degli Esteri, nessun ministro ha preso un aereo, è andato alla Pfizer a rivendicare quello che legittimamente era stato fatto, c'è la sottoscrizione dei contratti. L'emergenza sanitaria ha causato un'enorme crisi economica e sociale anche in Toscana, anzi qui ci sono situazioni anche più gravi nel turismo e nel suo indotto. Con i propri fondi, che integrano quelli della Giunta, il Consiglio regionale dà un sostegno concreto ad alcune categorie particolari. Sì, abbiamo scelto due categorie che non avevano avuto nessun tipo di ristoro dal Governo nazionale, in particolare i maestri di sci, che in Toscana sono circa 200 e qualche unità in più. La legge è di circa 200 mila euro, con un contributo, un tetto massimo per ciascun operatore di circa 800 euro. Quindi seguirà un bando, ovviamente, ne dovranno fare richiesta. Questo è l'ammontare di questa legge. Insieme a questa si aggiunge quella delle proloco. 250 mila euro, sempre per l'emergenza Covid, perché è ovvio che le proloco non hanno potuto svolgere tutte quelle attività e attrazione turistica, manifestazioni tipiche dell'animazione dei nostri borghi. Quindi abbiamo ritenuto giusto anche mantenere, per dare quel senso di aggregazione sociale che le proloco svolgono nella nostra Toscana, e l'abbiamo fatto con i risparmi del Consiglio regionale. La terza categoria è quella dei lavoratori dello spettacolo, quelli autonomi però. Ci sarà un contributo che porrà arrivare fino a 3.000 euro a testa. Il totale delle risorse a disposizione è di un milione. Un altro elemento di correttivo, un'altra menda che abbiamo fatto al test originario, è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana, non soltanto alla identità culturale, diciamo così tradizionalmente intesa, perché c'è tutto un patrimonio di creatività che è davvero elemento di identità per noi, ma che magari non ha a che fare con quella che solitamente si chiama l'identità tradizionale toscana. Vale a dire non soltanto il tema della riconoscibilità dei luoghi, delle tradizioni, ma anche un patrimonio di lavoro creativo che in questa regione ha avuto un riconoscimento, uno sviluppo davvero singolari. Quindi ci sembra importante lavorare per perfezionare uno strumento che è davvero uno strumento eccezionale, perché un Consiglio regionale che ritrova una cifra come questa, che mi rendo conto, alla fine potrà portare a contributi magari poco più che simbolici per le perdite che questi soggetti hanno avuto, ma comunque è un segnale di attenzione. Un Consiglio regionale che riesce a mettere insieme un milione finalizzato a questo scopo fa un'operazione che davvero pone la cultura al centro delle linee strategiche di sviluppo. Qual è il giudizio su questo pacchetto di misure adottate da parte delle opposizioni? Si sta facendo un buon lavoro di squadra e dal mio punto di vista occorre veramente lavorare tutti insieme per aiutare le persone, questo è un po' quello che ci chiede il mondo esterno. Conserviamo i nostri ruoli, le nostre differenti posizioni, però in questo momento almeno nell'aiutare chi è colpito dall'emergenza dobbiamo essere uniti. Uno dei problemi più grandi che questo governo è riuscito ad affrontare è stato quello di riuscire a dare il ristoro più esteso possibile a tutte le categorie. E delle volte non è stato facile, complice le rigidità dei codici a teco, ma molte altre questioni. È importante quindi che anche le regioni si facciano carico di questi ristori laddove possono e nella misura in cui possono, consapevoli che la coperta comunque sia non riesce a coprire tutto. Quindi benvengano i ristori per i maestri di sci, ma anche per le categorie del mondo spettacolo con una puntualizzazione. Molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche della comune di Firenze, che è quello per certi versi più ricco, ma ci sono moltissime piccole, piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa, ad esempio, delle aree interne. Queste sono le montagne pistoiesi, mai così innevate negli ultimi anni. Ecco le nostre immagini della Betone, della Val di Luce, uno spettacolo unico, ma che nei giorni scorsi ha significato anche forti disagi e danni ingenti per chi vive e opera in quelle zone e non solo qui, anche in Garfagnana. È molto importante che in seguito della dichiarazione dell'emergenza regionale la Giunta regionale adotti una delibera nella quale vengono definiti i comuni colpiti dall'evento e vengono attivate intanto quelle somme già sostenute dai comuni per la spalatura della neve, per quell'intervento di messa in sicurezza primaria e poi anche gli strumenti che sono a disposizione per dare un minimo sollievo alle aziende colpite in questa fase così difficile anche per il Covid per poter salvaguardare le proprie attività. Oltre a questo, molto importante, la sottolineatura nella mozione presentata dal Partito Democratico con la quale si dà il via a un lavoro da fare sulla normativa per la forestazione perché dobbiamo mettere mano a quella situazione di interferenze fra le infrastrutture dei servizi pubblici, in particolare in questo caso l'energia elettrica, che spesso corrono in prossimità appunto di piantumazioni piuttosto consistenti. Passiamo a 4,2 milioni di euro di danni e sono ancora in corso le quantificazioni, danni naturalmente diretti che si aggiungono al danno più generale di una stagione incredibile dove la neve da risorse è diventato un problema per la stragrande quantità ma anche perché gli impianti sono tenuti, anche se siamo in zona gialla, chiusi. La verità è che noi abbiamo chiesto subito e gli altri gruppi ci sono venuti dietro e stiamo lavorando in queste ore ad un documento unitario per mettere mano alla legge sulla forestazione perché la legge sulla forestazione e il relativo regolamento impediscono di fatto un taglio normale, logico, dei boschi e alla prima nevicata un po' più importante il problema è esploso in tutta la sua gravità. Sono cadute piante alte 20 metri, sono dovute chiudere le strade per il pericolo di crollo degli alberi, sono caduti tralici dell'Enel e delle linee telefoniche, sono state isolate intere frazioni e le famiglie messe al freddo con le imprese nella impossibilità di lavorare. In Consiglio regionale si parla anche di infrastrutture e opere strategiche per la Toscana, una in particolare sembra ancora al palo ed è il corridoio tirrenico che evidentemente non sarà più autostrada ma che dovrebbe comunque diventare una superstrada sicura a quattro corsie. Eppure ancora non vi è certezza. Purtroppo essendo io di Grosseto ho visto morirci tanti miei amici, persone che conosco e quindi per me è un qualche cosa che mi tocca il cuore, per me e i miei concittadini, per cui deve diventare assolutamente una cosa prioritaria per la Regione perché per noi è esiziale sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista infrastrutturale economico perché inevitabilmente per noi è fondamentale questa strada. Il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli è stato a lungo assessore della Giunta regionale e in quella veste andò a manifestare nell'ottobre del 2019, ecco le nostre immagini, insieme agli operatori economici della Maremma ma anche del Livornese. Conferma il suo impegno affinché quest'opera resti prioritaria e si possa fare al più presto sulla stessa linea anche il suo successore, assessore attuale Stefano Baccelli. Ma alla fine il Consiglio trova tutti d'accordo su questo punto. È importante che il Consiglio regionale della Toscana si sia pronunciata. Abbiamo presentato una mozione, è stata condivisa. È importante che la Toscana si pronunci per fare in modo che quanto prima arrivi il commissario. Deve essere un'opera strategica fondamentale per lo sviluppo della Toscana in relazione anche ad altre regioni. Ho avuto la tempestività di presentare subito una mozione a mia firma. Oggi il Consiglio regionale l'ha approvata. Questo è un atto importante politico con il quale il Consiglio regionale della Toscana chiede al nostro Governatore di attivarsi nei confronti del Governo per fare in modo che venga commissariata all'opera, l'intervento possa realizzarsi e possa rientrare fra le infrastrutture principali del decreto semplificazione. Sull'aeroporto si discute e viene anche approvata una mozione, proposta inizialmente dai 5 Stelle, che chiede il coordinamento dei lavori delle commissioni su questo tema e non solo. La questione degli aeroporti in Toscana diventa sempre più pressante anche a fronte della pandemia che sta praticamente azzerando l'intero settore. C'è il problema dei dipendenti che si trovano in cassa integrazione e rischiano licenziamenti e non conferme degli stagionali. C'è la questione annosa dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, che per noi è uno dei più grandi errori che la Regione possa fare. Ci sono delle questioni legate all'aeroportualità, ad esempio, dell'Isola Delba. Insomma, molte questioni che però devono essere analizzate con attenzione e con un approccio il più possibile multilaterale. Bisogna coinvolgere, e la Regione Toscana con il suo Consiglio se ne deve fare garante, tutti gli enti locali, la proprietà che finora ha avuto anche degli atteggiamenti, delle volte anche poco rispettosi, come nel caso del Comune di Pisa, i sindacati e tutti quelli che servono. Il Consiglio regionale e le sue commissioni devono diventare quel luogo di incontro e mediazioni di tutte queste parti per trovare finalmente delle soluzioni che poi la Regione Toscana, di concerto con il Governo, dovrà affrontare e risolvere in brevissimo tempo. Tra gli atti approvati ci sono anche i bilanci di esercizio del 2019 dei parchi delle Apuane e della Maremma. Il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria, il Consiglio regionale si è riunito anche stavolta in seduta solenne. Poco prima però c'è stata anche la consegna di una targa a Basilio Pompei. Basilio, militare deportato nei campi di sterminio, è stato violentemente attaccato sui social perché alla veneranda età di 103 anni in una RSA nei giorni scorsi si è vaccinato contro il Covid. Molti li hanno rinfacciato in modo minaccioso e offensivo perché in realtà secondo loro doveva lasciare le dosi ad altri più giovani. Ecco il figlio Giuliano che ha ritirato il riconoscimento e che ricorda cosa accadde quando seppe di questi attacchi. Ho risentito lui e gli ho detto Babbo ma c'è stato delle contestazioni perché insomma comincia ad avere un po' l'età in avanti, la alta d'identità all'ealta, cosa dici? Dice lo sai Giuliano cosa devi dire a chi te lo chiede? Dico ma dimmelo Babbo, digli che la mamma dei cretini è sempre incinta e io questo lo riferisco perché è il solito pensiero che ho io. Poi niente, stamattina ci siamo risentiti e praticamente dopo aver chiacchierato del tuo e del meno gli ho chiesto come stava, mi ha detto che ieri, poi me l'ha confermato il direttore della Villa San Biagio dove ora è l'RSA che ieri ha ricevuto la seconda dose, il richiamo del vaccino, che sta bene e niente, io pure non vedo l'ora di essere vaccinato per poterlo riabbracciare. 103 anni, Basilio Pompei è un emblema di quello che è stato la deportazione nei campi di sterminio e nello stesso tempo un ex partigiano, una persona che ha vissuto sulla sua pelle una dimensione di difficoltà della propria libertà, ha visto rischiare la propria vita e oggi in questa pandemia a 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato e come tale è stato anche offeso, deriso e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione, questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso. Dal mio punto di vista la giornata della memoria acquista valenza, se quella memoria la concretizziamo gli diamo un valore di attualità. Questo è il punto da cui partire perché anche se mi sono informato della vita di Basilio e Basilio pur lontano dall'impegno politico in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, è un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo. Durante la seduta ci sono stati gli interventi del Presidente del Consiglio e di quello della Giunta. Io penso che questo giorno vada ricordato non solo per quello che è stato ma anche attualizzandolo a quello che è e che sta accadendo anche in questi giorni. Quello che accade in Bosnia è sotto gli occhi di tutti. Campi profughi che sono dei veri e propri lager, quei piedi che escono dalla neve, le persone che non ce la fanno. Io penso che quello che è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora. E la memoria è seminare il germe della memoria, vuol dire far fiorire, far germiogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ai ragazzi toscani. Non siate mai indifferenti perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono sopprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra, della Toscana, il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo. Ma io ritengo che azioni educative nelle scuole sono la cosa fondamentale, principale. E ritengo che l'iniziativa che come Regione portiamo avanti del treno della memoria sia qualcosa da continuare e perpetuare. Io ho vissuto delle emozioni e condiviso dei momenti davvero stringenti, di grande intensità, con giovani di 18-19 anni attraverso l'esperienza del treno della memoria. E come Regione Toscana abbiamo svolto un ruolo decisivo nel portare il memoriale, ovvero le testimonianze che arrivano direttamente da Auschwitz in Piazza Bartali nel quartiere di Gavinana a Firenze. Tutto ciò che può sensibilizzare, far capire, far vedere, far conoscere ai nostri giovani come la cultura dell'odio, della discriminazione razziale, del totalitarismo, degenera in quello che è poi la cancellazione della vita umana, come è avvenuto purtroppo nei campi di sterminio e nella cultura nazista e fascista che portò alla Shoah, è importante perché possano crearsi fra di sé i presupposti per un rifiuto di quella cultura e un ripudio di quelle che sono le condizioni che hanno portato a questi misfatti. Due gli ospiti esterni, intanto lo storico Giovanni Gozzini che ha raccontato un episodio ancora in parte sconosciuto. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altre tante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente, gli U-Boat erano i sommergibili della marina militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, che era 160.000 persone, 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario, più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. E poi parla Ugo Caffaz, a lungo dirigente regionale, e anima proprio del treno della memoria, quello che dalla Toscana porta ad Auschwitz centinaia di studenti e insegnanti. Lui elogia l'iniziativa del Consiglio regionale, non scontata. Non è che si è fatto un discorso celebrativo, appunto, era un momento di studio. Il professor Gozzini ha fatto un Alexio Magistralis, se ne possa fare altre, ma questo dimostra che qui non è stata una celebrazione. Non è poco, non è così dappertutto, anzi, anzi. Il mio consiglio è il nuovo programma di Telegram Ducato per avere rapporti più stretti e diretti tra i cittadini e il Consiglio regionale. Ogni due settimane, sabato mattina alle 9.30, il presidente Antonio Mazzeo risponde alle domande, alle osservazioni, alle proposte, alle critiche della gente da casa, che può contattare la redazione con un'email dedicata, con un messaggio whatsapp o semplicemente con una telefonata. E lui, Mazzeo, si impegna sempre a rispondere in diretta o nei giorni successivi. È un obiettivo che io mi sono posto da subito, quello di fare in modo che il palazzo fosse trasparente, aperto, un luogo dove dare risposta ai cittadini. Io ai miei ragazzi, dico sempre, ragazzi che lavorano con me, noi entro 24 ore, da quando riceviamo un email, dobbiamo dare una risposta ai cittadini. Regionando torna venerdì prossimo, ancora alle 21.15. Dopo il telegiornale della sera parleremo anche dell'evoluzione della crisi politica e di governo in Italia.